Domenica 12 maggio festa della mamma ma anche giornata della lotta ai tumori organizzato dall'AIRC nazionale alla quale partecipano moltissime associazioni sia a livello locale che nazionale. Domenica il messaggio comune è regala una zalea alla mamma e contribuisce a donare qualcosa per la ricerca e la lotta al cancro. Noi abbiamo ascoltato la rappresentante di un'associazione locale, Autismo fuori dal silenzio, che annuncia la presenza di volontari domenica 12 maggio in piazza Sant'Alfonso, i quali consegneranno le azzalee a quanti potranno contribuire con una loro piccola donazione alla lotta al cancro. L'invito è esserci e contribuire affinché si continui nella ricerca per debellare questo male che purtroppo colpisce ancora tantissime persone. Alla festa della mamma ormai è diventato un rito per 15.000 piazze italiane e Pagani non manca mai a questo appuntamento. Quindi io con i miei volontari saremo anche quest'anno in piazza Sant'Alfonso dalle 7.30 alle 13 per combattere come ogni anno questa battaglia contro il cancro che purtroppo include tutti e non esclude nessuno. Quindi tutti devono sentirsi inclusi in questo dovere di combattere tutti insieme e nessuno deve sentirsi escluso. Prendere una zalea il contributo è sempre lo stesso, non c'è stata nessuna variazione, sarà di 15 euro. Fermo restando che chiunque può fare una donazione anche di una cifra inferiore che andranno all'AIRC, quindi all'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, però non potrà ottenere la zalea. Io faccio un invito a tutti i cittadini di Pagani che ogni anno sono sempre e mostrano la loro solidarietà e ogni anno non c'è mai una sola pianta che resta, quindi vuol dire che sono vicini alla problematica.